Un nuovo partner industriale per salvare e rilanciare la Vismara, azienda con stabilimento a casa de novo, controllata da Ferrarini. Dopo che la Amadori ha ritirato la propria proposta di investimento, il Consiglio di Amministrazione del Salumificio ha ritenuto opportuno, con il fine di consentire la salvaguardia dei livelli occupazionali e lo svolgimento dell'attività aziendale, depositare la rinuncia alla proposta di concordato preventivo, basata proprio sulla proposta di investimento di Amadori. Depositato una nuova richiesta di concordato preventivo, a fine di disporre del tempo necessario per sviluppare un programma di interventi con un nuovo gruppo industriale, in grado di sostenere la prosecuzione dell'attività e il piano di distrutturazione dei debiti della società. Tra le cordate interessate, quella formata dal gruppo Bonterre, nato a inizio anno dalla fusione di grandi salumifici italiani e Parmareggio, OPAS, tra le principali cooperative di allevatori di suini in Italia, Gruppo Casillo ed è intesa San Paolo. Ma le trattative sarebbero già interrotte, la cordata ha infatti chiesto a Ferrarini di comunicare l'accettazione della manifestazione di interesse prima dell'udienza di revoca del concordato preventivo di Vismara, fissata per oggi. Condizione che non sarebbe stata rispettata dalla Ferrarini, che avrebbe così di fatto chiuso la trattativa, almeno per il momento. Sindacati confederali di categoria avevano chiesto di valutare tutte le ipotesi e gli interessamenti volti a rilevare le attività produttive e a garantire le prospettive occupazionali e in particolare di conoscere il piano industriale che la cordata guidata da Intesa ha dichiarato di voler mettere in campo rimuovendo ogni ultimatum. Per fare chiarezza sulla situazione è in programma una riunione al Mise il prossimo 12 novembre.